David Swan Una fantasia Possiamo essere solo in parte a conoscenza degli stessi eventi che influenzano realmente il corso della nostra vita e il nostro destino ultimo. Sono innumerevoli gli altri eventi, se così possono essere chiamati, che ci sfiorano ma passano oltre senza esito e senza nemmeno rivelare la loro vicinanza con il riflesso di una luce o di un'ombra che ci attraversi la mente. Se potessimo conoscere tutte le vicissitudini delle nostre sorti, la vita sarebbe troppo fitta di speranze e di timori, di entusiasmi e delusioni per concederci una sola ora di autentica serenità. Quest'idea potrebbe essere illustrata da una pagina della storia sconosciuta di David Swan. Non sappiamo niente di David finché non lo troviamo all'età di vent'anni sulla strada principale che dal suo luogo natale conduce alla città di Boston, dove suo zio, un piccolo commerciante di spezie, doveva metterlo al lavoro, dietro al banco. Basti dire che era nato nel New Hampshire da rispettabili genitori e che aveva ricevuto una comune educazione scolastica, conclusa con un classico anno finale all'Accademia di Gilmanton. Dopo aver camminato dall'alba fin quasi a mezzodì in una giornata d'estate, la stanchezza e la crescente calura gli fecero prendere la decisione di sedersi nel primo posto ombreggiato e di attendere lì l'arrivo della diligenza. Come se fosse stata piantata lì apposta per lui, gli apparve ben presto una piccola macchia di aceri con un delizioso recesso nel mezzo, una fresca e sfumeggiante sorgente, che sembrava zampillare per nessun altro viandante che David Swan. Fosse vergine o no, egli la baciò con le sue labbra assetate e poi si lasciò cadere al suo limitare, facendoci cuscino con qualche camicia e un paio di pantaloni, legati insieme con un fazzoletto di cotone a strisce. I raggi del sole non potevano raggiungerlo, la polvere della strada non si alzava ancora dopo l'acquazione del giorno prima e così, con l'erboso giaciglio, si confaceva al giovane più di un letto di piume. La fonte morborava pigramente accanto a lui e i rami degli alberi stormivano come in sogno nel cielo azzurro sopra la sua testa. È un sonno profondo che forse nascondeva sogni nelle sue profondità, scese su David Swan. Ma qui dobbiamo parlare di eventi che egli non sognò. Mentre era profondamente addormentato all'ombra, altre persone erano ben d'este e passavano di lì avanti e indietro, a piedi, a cavallo e su ogni sorta di veicoli, lungo la strada soleggiata che passava accanto alla sua alcova. Alcuni non guardavano né a destra né a manca e non si accorsero della sua presenza. Altri lanciarono soltanto un'occhiata da quella parte, ma senza tener conto del dormiente tra i loro gravi pensieri. Alcuni risero nel vedere come dormiva profondamente e alcuni altri, con il cuore traboccante di disprezzo, riversarono su David Swan tutta la loro superflua velenosità. Una vedova di mezza età si affacciò per un attimo nell'anfratto, mentre nessuno era nei pressi, e si disse che quel giovane addormentato era davvero affascinante. Un predicatore di temperanza lo vide e introdusse l'ignaro David nel filo del suo sermone serale, come orribile esempio di ubriachezza sul ciglio della strada. Ma il biasimo, l'approvazione, il dileggio, il disprezzo, l'indifferenza erano tutt'uno, anzi niente per David Swan. Dormiva solo da qualche minuto, quando una carrozza scura, tirata da una bella coppia di cavalli, sfrecciò lungo la strada e si arrestò quasi davanti al luogo in cui David riposava. Il chiodo di un mozzo era caduto, facendo slittare fuori una delle ruote. Era un lieve inconveniente e aveva provocato solo un attimo di apprensione a un anziano mercante e a sua moglie che facevano ritorno a Boston a bordo della carrozza. Mentre il cocchiere e un domestico riparavano la ruota, la donna e suo marito andarono a ripararsi all'ombra degli aceri. E lì scorsero la fonte zampillante e David Swan addormentato accanto. Attratto da quel fascino che solitamente ispira anche il più umile dormiente, il mercante si avvicinò quanto più lievemente gli consentiva la gotta, e sua moglie ebbe cura di non far frusciare la sua gonna di seta per non destare David dal soprassalto. «Come dorme saporitamente», sussurrò l'anziano gentiluomo, «da quali profondità attinterà quel tranquillo respiro. Un sonno come questo, non indotto da sonniferi, varrebbe per me più della metà dei miei guadagni, perché presuppone buona salute. È una mente sgombra di affanni. E anche gioventù», sopraggiunse sua moglie, «una sana e serena vecchiaia, non consente di dormire così. Il nostro sonno non è più come il suo, non più della nostra veglia». Più a lungo lo guardavano, più l'anziana coppia era interessata a quel giovane sconosciuto al quale il ciglio della strada e l'ombra degli azeri facevano la segreta alcova, avvolgendolo nella fitta penombra di tende damascate. Accorgendosi che un raggio di sole cadeva sul suo volto, la donna riuscì a spostare il ramo di un albero, in modo che lo intercettasse, e dopo aver compiuto questo piccolo gesto di cortesia, si sentì come una madre per lui. «Sembra che sia stata la provvidenza a condurlo qui», sussurrò rivolta al marito, «e che abbia condotto qui anche noi, per trovarlo, dopo la delusione per il figlio di nostro cugino. Mi sembra di vedere una somiglianza col nostro povero Henry. Vogliamo destarlo?» «A quale scopo?» domandò il mercante esitante. «Non sappiamo nulla del carattere di questo giovane». «Guarda quell'espressione aperta», replicò sua moglie, sempre con voce attutita ma anche commossa. «Quel sonno, innocente!» Mentre venivano scambiati questi sussurri, il cuore del dormiente non trasaliva, né il suo respiro si interrompeva, né i suoi allineamenti tradivano la minima ombra di interesse. Eppure la fortuna si è racchinata su di lui, pronta a ricolmarlo d'oro. Il vecchio mercante, infatti, aveva perduto il suo unico figlio e non aveva eredi a cui lasciare i suoi averi, tranne un lontano parente della cui condotta era insoddisfatto. In questi casi, le persone compiono talvolta azioni più strane di quelle che avvengono per magia e possono destare nella ricchezza un giovane che si era addormentato nella povertà. «Non vogliamo destarlo», ripete la signora in tono ancora più persuasivo. «La carrozza è pronta, signore», annunciò il domestico dietro loro. L'anziana coppia trasalì, arrossì e si allontanò in fretta, domandandosi ambedue come avevano potuto solo immaginare qualcosa di così ridicolo. Il mercante risalì in carrozza, dove occupò la sua mente col progetto di un magnifico ospizio per uomini d'affari caduti in disgrazia. E nel frattempo David Swan continuava a dormire beatamente. La carrozza non poteva aver percorso più di un miglio o due, quando una graziosa fanciulla arrivò lì con passo spigliato, che rivelava esattamente come il suo piccolo cuore le danzava in petto. E forse fu proprio questo suo movimento disinvolto che le fece sciogliere la giarrettiera. Forse c'è del male a dirlo, accorgendoci che il reggicalze di seta, se di seta era, stava per cadere, la fanciulla si voltò al riparo degli aceri e lì vide un giovane addormentato accanto alla sorgente. Arrossendo come una rosa per essersi introdotta nell'alcova di un uomo e per dipendere più a quello scopo. La giovane stava per fuggire in punta di piedi, ma un pericolo incombeva accanto al dormiente. Un'ape mostruosa ronzava sopra la sua testa, ora volteggiando tra le fronde, ora guizzando attraverso i raggi del sole, ora perdendosi nell'ombra, finché sembrò in procinto di posarsi sulla palpebra di David Swan. La puntura di un'ape può essere a volte mortale, ma la fanciulla, intrepida quant'era innocente, assalì l'intrusa col suo fazzoletto e la scacciò energicamente da sotto l'ombra degli aceri. Che delizioso quadretto! Compiuta questa buona azione, ansimante e ancor più rossa in viso, lanciò un'occhiata al giovane sconosciuto, per il quale aveva dato battaglia a quel drago dell'aria. Com'è bello, pensò, arrossendo ancor di più. Com'era possibile che un sogno di felicità non sorgesse dentro di lui, così impetuoso che, travolto dalla sua stessa forza, non prorompesse per consentirgli di percepire la presenza della fanciulla tra le sue visioni? Perché almeno un sorriso di benvenuto non illuminò il suo volto? Era giunta lì quella fanciulla, la cui anima, secondo un'antica, bella immagine, si era separata dalla sua, colei che nei suoi sogni confusi ma appassionati lui anerava solo di conoscere. Lei soltanto egli poteva amare con amore perfetto, e lui soltanto e la poteva ricevere nell'intimità del suo cuore. E ora l'immagine di quella fanciulla arrossiva lievemente nella fontana al suo fianco, e quando fosse scomparsa, il suo lieto riverbero non avrebbe più illuminato la sua vita. «Come dorme profondamente!» mormorò la ragazza. Poi se ne andò, ma il suo passo sulla strada non era così lieve come quando era giunta lì. Si dava il caso che il padre della ragazza fosse un facoltoso mercante della campagna circostante, e che in quel momento fosse alla ricerca di un giovanotto, proprio come David Swan. Se David avesse conosciuto casualmente sua figlia, sarebbe divenuto l'aiutante del padre, con tutto ciò che consegue nella successione naturale. E anche qui la fortuna, la migliore delle fortune, gli si era avvicinata così furtivamente che i suoi indumenti l'avevano sfiorato. Ma lui non ne seppe mai nulla. La ragazza era da poco scomparsa alla vista, quando due uomini voltarono sotto l'ombra degli aceri. Avevano due volti cupi, celati da berretti di stoffa che tenevano di sbieco sulla fronte, e vestivano miseramente, ma con una certa eleganza. Erano una coppia di malviventi, che campavano di ciò che il diavolo offriva loro, e ora, fra l'una e l'altra delle loro imprese, avevano scommesso il bottino della loro prossima ribalderia su un gioco di carte, che doveva essere deciso proprio lì, sotto gli alberi. Ma nel vedere David addormentato accanto alla fonte, uno dei fruffanti sussurrò al suo compare «Ehi, l'hai visto, quel fagotto, sotto la testa?» L'altro caglioffo annui e strizza l'occhio, con aria d'intesa. «Scommetto una pinta di Brandy», soggiunse il primo, «che quel tipo ha un portafoglio o un bel gruzzolo di monete, nascosto lì, tra le sue camice. E se non è lì, lo troveremo nella tasca dei suoi pantaloni». «E se si sveglia?» domandò l'altro. Il suo compare si slacciò il panciotto, indicò il malico di un pugnale e fece un cenno d'intesa. «E così sia!» mormorò l'altro malvivente. Si avvicinarono a David, ancora addormentato, e mentre l'uno gli puntava il pugnale al cuore, l'altro si diede a frugare nel fagotto sotto alla sua testa. I loro ceffi, cupi, grinzosi, sfigurati dalla colpa e dalla paura, erano chini sulla vittima ed erano così orribili da poter sembrare quelli di due diavoli se David si fosse destato d'improvviso. Gli stessi furfanti, se avessero dato uno sguardo alla fonte, difficilmente si sarebbero riconosciuti nel riflesso dell'acqua. Ma David Swan non aveva mai avuto un'espressione così serena, nemmeno quando era al seno di sua madre. «Devo strappare via il fagotto!» sussurrò uno dei briganti. «Se si muove, lo colpisco!» mormorò l'altro. Ma in quel momento un cane, annusando per terra, si addentrò tra gli alberi e guardò prima l'uno, poi l'altro dei malviventi e infine il silenzioso dormiente. Poi lappò l'acqua della sorgente. «Maledizione!» esclamò uno dei manigoldi. «Ora non possiamo più far niente. Il padrone del cane deve essere qui vicino. Beviamo qualcosa e squagliamocela!» propose l'altro. L'uomo ripose il pugnale dentro il panciotto e prese un'altra arma dalla tasca, ma non di quelle che uccidono con un solo colpo. Era una fiaschetta di liquore con un bicchiere di metallo avvitato in cima. Ciascuno beve un'abbondante sorsata. Poi se ne andarono insieme, scherzando e ridendo della ribalderia non commessa, tanto da far pensare che andassero a festeggiarla. Poche ore dopo avevano dimenticato tutto l'accaduto, non immaginando lontanamente che un angelo aveva registrato sulle loro anime il delitto di omicidio con lettere indelebili nell'eternità. In quanto a David Swan continuava a dormire beatamente, inconsapevole sia dell'ombra della morte che si era posata su di lui, sia della vita nuova che si era accesa quando quell'ombra era scomparsa. Continuava a dormire, ma non più profondamente come prima. Un'ora di sonno aveva risollevato la sua robusta costituzione dalla stanchezza di molte ore di fatica. Ora si agitava, ora muoveva le labbra senza proferire suono, ora parlava tra sé e sé, rivolgendosi ai fantasmi diurni dei suoi sogni. Ma uno sferragliare di ruote si fece sempre più forte lungo la strada, finché irruppe tra le disperse nebbie del sonno di David, che vide allora la diligenza e balzò in piedi nel pieno possesso di tutte le sue idee. «Ehi là, cocchiere!» «Mi dai un passaggio?» «C'è posto sul tetto!» gli rispose il conducente. David salì a bordo e partì allegramente alla volta di Boston, senza nemmeno voltarsi a guardare quella fonte di oniriche vicessitudini. Non sapeva che una chimera di ricchezza aveva dipinto d'oro le sue acque, né che una d'amore aveva sospirato lievemente al loro mormorio, e nemmeno che un'altra di morte le aveva quasi arrossate del suo sangue, e tutto nella breve ora in cui aveva dormito. Nel sonno o nella veglia tutti noi non udiamo i lievi passi delle strane cose che quasi accadono. Non vuole forse affermare una superiore provvidenza che, mentre eventi invisibili e inattesi attraversano continuamente il nostro cammino, la nostra vita mortale dovrebbe essere abbastanza regolare. Per rendere possibile, almeno in parte, la premonizione.